Un tavolo tecnico con la regione per stabilire la roadmap delle assunzioni del personale nel sistema sanitario toscano entro la fine del 2021 è la promessa strappata dal sindacato autonomo degli infermieri Nursind al termine di un sit-in di protesta per il blocco delle assunzioni che si è svolto a Firenze in piazza Duomo davanti alla sede della giunta regionale. Sì dunque la situazione della sud-est ovviamente ricalca molto quello delle altre aziende toscane con la particolarità che rispetto alle altre aziende qui non si è fatta programmazione per anni e quindi di conseguenza ora in questo momento non sappiamo in realtà ma lo diciamo da tanto tempo come sindacato non sappiamo in realtà quante sono le unità che ci mancano tenendo conto i fisiologici abbandoni per pensionamenti tenendo conto che in questo momento abbiamo un personale sospeso a causa del fatto che non si sono vaccinati e tenendo conto che in questo momento l'azienda, la regione toscana non autorizza ulteriori assunzioni nonostante ci sia un concorso con 2500 persone in attesa già espletato. Ci preoccupa sicuramente ancora la pandemia perché non siamo, ricordiamoci, che non siamo ancora fuori dalla pandemia. Ci preoccupa perché tutte le volte arriviamo ovviamente nel periodo invernale ci sono altre patologie come le influenze che ovviamente di solito tendono a ridurre fisiologicamente il personale, siamo preoccupati perché il personale è veramente stanco. Quello sì, è stanco e in alcuni casi è demotivato, questo ci preoccupa ancora di più. Quindi se la regione in questo momento non interviene con ulteriori assunzioni, non interviene in qualche maniera dicendo alle aziende che devono fare programmazione sul personale, ecco siamo veramente preoccupati. Sul tema intervengono anche gli ordini professionali infermieristici della Toscana per ricordare che quella dell'infermiere è una delle professioni cardine del piano nazionale di resilienza e ripresa a cui si richiede sempre maggiori responsabilità e specializzazioni e a cui quindi sono dovuti maggiori riconoscimenti sociali ma anche economici.